Grazie a tutti di libri che lei avrebbe ordinato regandosi qui nella nostra libreria e lasciando questa ordinazione siccome alcuni non erano reperibili al momento e poi erano parecchi A me non mi mandi niente perché io non ho ordinato niente No, 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 calma, calma No, 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 qui bisogna fare luce su questo fatto Ora, io non ero presente, io sono il titolare Ma chi è lei? Il signor Paginetti, Stampini, Livracci Sono il titolare Paginetti, Stampini, Livracci La libreria te l'ammollo Ecco, io sono il titolare Appunto, quando è venuto lei Io sono venuto Sì, sì, io non c'ero Un mio garzone mi ha detto appunto Sì, buongiorno signora Sto parlando con il signor Guglielmo per favore Si levi di torno Signora, si levi cortesemente di torno Signora, si levi cortesemente di torno Lo chiedo con molta cortesia Lei è la figlia Allora gli ha ordinati lei i libri Ma che libri? I libri, qui è la libreria te l'ammollo Qui praticamente La libreria? Te l'ammollo Abbiamo molti libri che sono stati ordinati Dal signor Guglielmo Che è venuto presso di noi a fare ordinazione Poi ho detto Ora non ce la faccio a portarli tutti Perché sono parecchi Me li mandi Poi alcuni erano da ricercare Alla fine li abbiamo tutti Ecco, io le dico anche i titoli Così No, guardi, si sta sbagliando No, 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 no No, 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 no Momento signora Io non mi sto sbagliando Perché qui Allora si sta sbagliando lei No, no Guardi, vi ha richiesto Il manuale delle corna Subito Mi sente? Sì, sì Ecco Poi un bellissimo volume Dalle pagine odorose Via Colpeto È una nuova Guardi, noi non ci ho ordinato punti libri Ma come no? Ma scusi No, sicuri Sicuri ora se lei era E questo forse era per lei Tutta la verità sullo scroto No, non cariola Un tema veramente scottante Comunque noi non ci ho ordinato niente E questo normalmente non ci mandi niente Perché noi Guardi, sono Le dico ancora i titoli Signora No, no Signorina A me non mi impatta niente Io gli domando Lei, lei Cosa c'entra con il signor Guglielmo? È lui È mio padre Figurati se lo saprà E sarà su Ma cosa ne sa lei di suo padre? Ma cosa ne sa lei di suo padre? Ma figuriamoci Ma scusi Suo padre Cosa ha ordinato mio padre? Senta Ma suo padre Signora Ma come lo legge nemmeno? Come fa a saperlo lei? Cosa legge in bagno per esempio Suo padre? Figurati cosa legge in bagno Ma vado a fare il tuo paese Non sono giornalisti porno Eh, lui legge anche altre cose Ma che c'è altro giornalisti porno ancora? No, no Non abbiamo niente di porno Lui ha ordinato Ma si scherza? Ma senta una cosa Suo padre è monco? No, lei è monco No, monco Ho detto monco Lei è monco No, guardi Non è un'offesa Ho chiesto Suo padre è monco Perché ha richiesto Come farsi le seghe senza mani Sì E anche lei Perché non se le fa lei Le seghe senza mani? Ma no, io ho le mani Allora guardi un pochino di essere Meno scordese C'è un bellissimo giallo Il caso del capezzolo solitario Mi dice un po' no Ma chi è? E se è un guglielmo stesso No, perché qui Un attimo Lei chi è? Che è il signor? Paginetti, stampini, stampini, libracci Paginetti Paginetti Paginetti? Stampini, libracci Sono i miei cognomi Tiddi, libracci Troppi No, troppi Guardi Io ne ho tre E me ne vado Perché sono di stirpe nobile Libreria La libreria Te l'ammollo La tira La libreria Ti tireria Come tireria Scusi Libre Libreria Ti l'ammollo No, ti l'ammolla Te l'ammollo E di dov'è? E qui dov'è? Di qua È di Cascina Di Cascina Di Cascina Ma È della zona Allora Libreria Te l'ammollo Sì Tutto attaccato Te l'ammollo Sì, lo scherzo Ma quale scherzo? Ma cosa? Senta Eh signore? Ma gliel'ho detto adesso Paginetti, stampini, libracci Che cosa le devo dire ancora? Paginetti, stampini Libracci Senta, noi poi abbiamo anche qui Che sono tutte richieste alle case editrici Apposta per suo padre La caccola ci sposa E la cispa caccolosa Dove esiste questa libreria a Cascina? A Cascina? Lei conosce Cascina? Sì Allora se lei conosce Cascina Sì, dov'è questa libreria a Cascina? Quel viale alberato Quel viale alberato Che si chiama Viale dei Soldatini di Piombo Che sbuca in una piazza tonda Dov'è la piazza tonda? Piazza delle Candele Spente Da lì parte Piazza delle Candele Spente Esatto Vicino dove? Dove c'è il monumento a Cerino Insomma praticamente Lei gira praticamente Sulla destra Trova una strada Che si chiama Via delle Cantonate E lì abbiamo Numero 23 La nostra libreria Ora me lo scrivo Libreria Non poche l'ho detto Signora o signorina Libreria Signora o signorina? Signorina Signorina Ecco Libreria Trova nessuno la sposa Senta Allora Libreria Te l'ammollo Sì Te con la T maiuscola E tutto attaccato Te l'ammollo Ecco Ecco Io sono il signor Paginetti, Stampini, Libracci 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 E che suo nome? Paginetti, Stampini, Libracci Ah vuol sapere il nome di battesimo? Eh direi Ah vabbè Io mi presento così Comunque se vogliamo aggiungere Ho già tre cognomi Vogliamo aggiungere anche il nome? Un nome avrà un nome Teodoro 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 E allora? Che c'è di strano? Teodoro Paginetti Ci arriva per viare Le costruzioni di piombo La piazza delle candele spette Monumental Cerino A sinistra Anzi destra E zà Via delle cantonate Numero 23 Numero 23 Numero 23 C'è la presente a Cascina La mostra del mobile? Sì Ecco E lì da quelle parti Lì da quelle parti Lì è una libreria? Eh certo O da quando c'è? Eh da tempo Ma scusi Ma se lei non frequenta librerie Come fa a sapere se c'è o non c'è? Scusi eh Ma io siccome sono di Cascina Lei è di Cascina Tanto meglio Questa è ignoranza pura Non conoscere la libreria Telamollo Che ha cent'anni di Eh vabbè Ne potrebbero anche trecent'anni È nata nel 1901 È nata Eh voglio dire Comunque non ti ho ordinato niente Comunque No io Se vuole prendere nota Anche dei titoli dei libri Io le dico anche tutti i titoli dei libri No 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 A me non me ne frega niente Perché io non ho ordinato nulla Comunque farò Ora guardo un pochino C'è un libro intitolato La pasta e la solitaria Sì Il mio nonno un carriola E poi mille modi per mandare a fanculo la gente Ecco Il primo modo ce lo mando lei Ma che scherzo è questo? Ma lei quanti ne conosce scusi? Eh? Lei quanti ne conosce di modi? Di mandare a fanculo? Sì Uno solo Vado a fare in culo Ma grazie perché mi ha dato del lei È molto gentile Però insomma Come dire? Il signore non è una cosa Lei è una signora molto gentile Però io insisto sul manuale delle corna Che suo padre ha ordinato Perché evidentemente ne ha necessità Comunque la saluto Senta Come rubare il Colosseo? Sì Rivederci La moglie del Fico? Sì